Il 25 novembre passato, pochi giorni fa, sono tornato in montagna per celebrare i 10 anni dal grande evento e che cosa è successo? E' successo che loro si sono manifestati di nuovo e questa volta però io avevo portato la videocamera e li ho filmati quindi ho filmato questa nave che passava, tra l'altro è sbucata fuori dalla stessa zona da dove era uscita 10 anni fa è uscita fuori questa luce da dietro le montagne, sembrava una semplice luce, poi se vedevi bene vedevi dentro la forma della nave e non so quanto fosse grande, non riesco a stimarla ma era a bassa quota e io avevo questa telecamera, tac, l'ho accesa subito, immediatamente però non la vedevo inquadrata nello schermo della videocamera, non la vedevo questa luce anche se poi nel video che c'è in giro, è stato pubblicato, si vede che io l'avevo già inquadrata all'inizio ma non la vedevo, infatti entra e esce dall'inquadratura perché la luminosità dello schermo della videocamera mi impediva di vedere e io ero nel buio più assoluto lì quindi io un po' guardavo la videocamera, un po' guardavo la luce perché non me la volevo perdere comunque questa nave sopra di me, la volevo gustare con i miei occhi quando è arrivata sopra di me si è quasi fermata completamente sulla mia verticale in quel momento mi sono accorto che non stavo inquadrando, non riuscivo ad inquadrarla allora mentalmente, anche se ero molto emozionato, mentalmente ho detto fratelli scendete di più, scendete, scendete perché non riesco a inquadrarvi, scendete mi danno il tempo di girarmi così, perché la luce veniva così mi danno il tempo di voltarmi così a quel punto loro ripartono dalla mia verticale riacquistano velocità e si abbassano di quota quindi loro hanno sentito il mio pensiero telepatico, perché io non l'ho detto ho detto solo fratelli, fratelli non sapevo cos'altro dire ma mentalmente io gli ho detto abbassatevi che non riesco a filmarvi loro si sono, quindi sono ripartiti, si sono abbassati di quota ed ecco che tac, sono riuscito ad inquadrarli e si vede infatti questa luce poi ho estratto alcuni fotogrammi per far capire bene di cosa si tratta quindi loro hanno celebrato insieme a me questi dieci anni io sono abbastanza incredulo ancora perché sai, sì, le esperienze, il libro, tutto quello che vuoi però ogni tanto hai bisogno di conferme io poi sono severo con me stesso penso sempre di essere poco disciplinato perché questi esseri sono la perfezione io sono vero con me io sono vero con me